E' stata un'indagine lampo, quella dei carabinieri di Bari, che ha portato all'arresto del presunto responsabile della sparatoria venuta ieri notte nei pressi del campo sportivo di Bitonto, in cui una giovane ventenni, apartatasi in macchina con il suo ragazzo, è stata ferita di striscia ad un fianco. In manetta il suocero del conducente dell'auto, il 56enne Bitontino Cassano Cosimo, volto noto alle forze dell'ordine. Era circa mezzanotte e mezza quando un 28enne con precedenti di polizia si trovava all'interno della sua utilitaria in compagnia della ventenne incensurata di giovinazza. A un certo punto, secondo il racconto dell'uomo, da un'auto di colore scuro sono partiti dei colpi di pistola all'indirizzo del veicolo. In tutto sarebbero stati esplosi i cinque colpi, di cui tre sono andati a segno sulla carrozzeria. A questo punto la fuga ad alta velocità verso Bari, con l'auto oscura le calcanea, fino a quando all'altezza dell'hotel Parco dei Principi, a causa dello scoppio di uno pneumatico, la folle corsa si interrotta e l'auto che inseguivassi è dileguata. L'uomo ha così chiamato il 118, che ha mandato un'ambulanza per il successivo trasporto al Policlinco di Bari della Giovane, che a tinta di striscio non fianco da uno dei colpi, è stata medicata e dimessa. Con 15 giorni di prognosi, le indagini sono partite e subito serrate da parte dei carabinieri di Bari San Paolo e di Molfetta, coadiuvati dalla sezione investigazioni scientifiche del Comando Provinciale di Bari, che ha effettuato i rilievi. Dal racconto delle due vittime, i sospetti degli investigatori si sono subito concentrati sul contesto familiare dell'uomo, in fase di separazione, il quale aveva iniziato a frequentare la giovane ventenne. Messo le strette il suo ocero del ventottenne, ammesso di aver fatto uso nella circostanza di una pistola 7,65, ha così condotto i carabinieri nei pressi di un campo, incontrata a delle rose, dove su un albero aveva nascosto la pistola una Zastava calibro 7,65. E' così scattato l'arresto di Cassano con l'accusa di detenzione illegale di arma clandestina, ma proseguono serrate le indagini per verificare tutte le sue responsabilità in merito al grave episodio avvenuto presso il campo sportivo di Vitonto.